Buonasera, come andiamo? Questa sera prepariamo gli hamburger alla griglia. Abbiamo già la padella. Guardate un attimo. Mettiamo a fuoco. Mettiamo un peccetino di budo. Facciamo rosolare il budo per dare con la scivolata del... Usiamo il budo. E mettiamo gli hamburger. Uno. Penso che mi cuocio. Due. Buone. Scusate ma il cameraman ogni tanto si perde. Facciamo rosolare le hamburger della parte... Scusate che mi si appiccita la hamburger. Ok. Un po' qui. Ben rosorati. Tanto giro la pasta. C'è un po' un modello. Facciamo andare un po' a poco lento le hamburger. e così... Così... Sanno... Sono un po' rosolati. Scusate. 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 Viviamo di nuovo i hamburger. ok e gli hamburger sono fatti mettiamo qua la fiammella così si fanno anche il dentro degli hamburger ok secondo me gli hamburger sono già fatti li possiamo mettere nei piatti uno e uno due buon appetito gli hamburger sono fatti hamburger griglia alla prossima ciao